L'approccio del quale parleremo, l'esperienza che faremo, si muove all'interno della psicologia transpersonale, dell'approccio psicoterapeutico transpersonale. Noi potremmo utilizzare questo modello per cercare di comprendere che cosa intendiamo per un approccio transpersonale. Proviamo intanto a stare in contatto con comprendere che quello che io vi dirò non è solo una condivisione appunto teorica sul piano cognitivo ma è cercheremo di avere una comprensione sul piano integrale, su tutti i nostri corpi cosiddetti. Quindi se guardate questo modello che cosa vi trasmette? Provate ad ascoltare, a stare in contatto. Io vi dico qualche spunto intanto. Come vedi abbiamo un quadrato che potrebbe rappresentare palcoscenico, potrebbe rappresentare il luogo dell'esperienza perché noi possiamo anche dire che ogni scienza ha un suo oggetto. La scienza psicoterapeutica che è un oggetto l'esperienza umana e quindi sarebbe bene sapere di cosa parliamo quando parliamo di esperienza umana. potremmo dire che l'esperienza umana si svolge sul palcoscenico. L'esperienza umana è un dialogo partecipativo tra me e il mondo. Immaginate un paziente che viene da te, cosa fa? Ti porta sul palcoscenico se stesso o porta un problema o porta un conflitto o porta una difficoltà oppure semplicemente porta se stesso e tu tendenzialmente che cosa vedi? Vedi quello che ti porta. Poi dipendendo dall'approccio che hai, se è un approccio più legato psicodinamico al profondo, cerchi di indagare i contenuti proiettivi piuttosto che le resistenze, se è un approccio più cognitivo e cerchi di individuare le misconceptions, se è un approccio più psicocorporeo, lavori sull'analisi dei vari diaframmi, l'identità funzionale, se è un approccio sistemico e cerchi di riconoscere i sistemi disfunzionali e quindi lavori con quello che la persona ti porta sul palcoscenico e questo cerchio secondo te che cos'è? Noi potremmo dire che questo cerchio, in questo cerchio noi mettiamo i contenuti in base a qual è il nostro mindset, in base a qual è, su quali sono le nostre mappe mentali. Uno degli aspetti fondamentali del lavoro transpersonale è quello di diciamo così andare oltre la mente oltre la dimensione cognitiva e basarsi su quello che arriva su un piano profondo di senso sentito e di intuizione. A me così proprio di pancia mi faceva pensare all'accoglienza del terapeuta e mi veniva in mente l'immagino proprio di un abbraccio. Se su quel palcoscenico c'è il paziente con le sue difficoltà quindi proprio l'accoglienza di tutte quelle che possono essere le difficoltà, le problematiche, il sé portato dal paziente nella possibilità di comprendere. Esatto, allora questo fatto di considerare l'abbraccio stai dicendo sì quello che conta non è tanto quello che tu fai, la tua tecnica ma la tua presenza terapeutica, la relazione che si sta ora, quindi stai mettendo l'accento sul fatto che in questo cerchio ti parla del tuo, si potrebbe anche dire contro il transfert, comunque del tuo atteggiamento accogliente. E ok, d'accordo, fino a qui siamo all'interno di un ambito nel quale appunto il terapeuta va oltre, potremmo dire va oltre la sua tecnica e va in contatto con la sua, si mette in gioco con la sua diciamo così parte più essenziale. Questo un buon terapeuta lo fa, quindi siamo ancora in un ambito abbastanza condivisibile. Andiamo avanti, se tu provi a stare nel quadrato e poi provi a stare nel cerchio, come ti senti? Nel quadrato sento una rigidità, proprio data dagli angoli banalmente dell'immagine, nel cerchio invece è una maggiore flessibilità. A me il cerchio ha fatto subito pensare al mare, non so, forse il colore come associazione proprio libera, oppure potrebbe anche il contenimento. Il contenimento. Un po' è un po' diciamo una maggiore flessibilità nel cerchio, ma mi dà anche l'idea il cerchio di una più ampia possibilità di azione, un più ampio raggio d'azione. Esatto. Una possibilità in più. Esatto, un più ampio raggio d'azione, certo. Certo. Adesso pensando e sentendo anche le colleghe, il cerchio mi faceva pensare anche alla possibilità di unione tra le punte di questo quadrato. Unione. Stai già nominando un aspetto cruciale, un aspetto che ha a che fare con il transpersonale. Unione. C'è il cerchio che dà un'idea di unione, di mettere insieme. Se poi tu guardi meglio, ti accorgi che è vero che il quadrato dà questo senso di, non una parte di chiusura, ma anche di stabilità e di seguito, però se tu vedi il quadrato è all'interno del cerchio. Quindi in realtà tutto quello che noi possiamo dire del quadrato lo possiamo dire anche del cerchio e non viceversa però. Nel senso che se tu non ti rendi conto dell'esistenza del cerchio, il tuo lavoro terapeutico si può svolgere solo all'interno del quadrato. La tecnica piuttosto che la dimensione cognitiva. Ogni volta che fai un salto di coscienza entri in una dimensione più profonda per la quale ci metti l'abbraccio, ci metti il senso di unione, ci metti il senso di contenimento. Quindi la prima cosa che possiamo dire e che vorrà dirti questo discorso è che possiamo renderci conto che esiste una possibilità di fare costantemente questo gioco tra il quadrato e il cerchio, il quadrato è quello che affiara sul palcoscenico, che la persona ti porta. Se tu non fai qualche cosa vedi solo quello che la persona ti porta. Se tu fai qualche cosa cogli uno spazio più ampio. Questo spazio più ampio che per ora avete nominato come abbraccio, contesto, senso di unione, però dipende dal tuo grado, dalle mappe cognitive che tu hai e dal tuo stato di coscienza, della tua capacità di cogliere, perché questo cerchio è anche, lo sappiamo, il cerchio è il simbolo di unità, di totalità, di essenzialità, il cerchio è il simbolo della divinità, il cerchio è il simbolo di tutto ciò che è il simbolo, poi vedremo del sé. Potremmo dire che il quadrato è l'io, il comportamento, l'insieme dei sintomi e il cerchio è il sé, è la totalità dell'essere e quindi noi siamo costantemente in questo gioco tra quadrato e cerchio. Possiamo dire che quel dialogo partecipativo tra quadrato e cerchio in realtà si svolge, se noi lo vediamo un po' più in un'ottica sottosistemica, si svolge, è il circuito dell'esperienza, è il gioco dell'esperienza che è fatto di agire, sentire e pensare. Quell'esperienza lì del quadrato o del cerchio io lo faccio attraverso il mio agire, il mio sentire, è il mio pensare. Dialogo con il mondo e in base al mio dialogo con il mondo, vedi il mondo dell'altro nel caso terapeutico, quello che la persona mi porta io lo posso raccogliere attraverso un sentire, agire e pensare. Quindi la prima cosa che potremmo vedere rispetto a quel cerchio ti dice guarda che quello che la persona ti porta non è solo qualche cosa da accogliere sul piano cognitivo, ma se tu vuoi vivere un'esperienza autentica dell'altro, del mondo, dovresti cercare di tenere insieme, sentire, agire e pensare. Non solo quello che sai, non solo cercare di fare una diagnosi o cercare di arrivare a trovare il protocollo giusto piuttosto che l'azione giusta, ma riconoscere qual è il tuo sentire, agire e pensare, che cosa tu ne fai di questo. Quindi un'esperienza integrale, un'esperienza nella quale colui che sente dentro di te, colui che agisce, colui che pensa e organizza il pensiero, dovrebbero essere insieme. Se voi ci pensate, quello che abbiamo fatto prima è stato qualcosa di questo genere. Abbiamo incominciato a provare a sentire, abbiamo pensato e poi abbiamo detto, abbiamo condiviso quello che Quadrato e Cerchio ci hanno trasmesso. Ora, introduciamo questo elemento, l'osservatore. L'elemento dell'osservatore ti dice, guarda che non solo la tua esperienza, e la tua esperienza sia personale che terapeutica, è quello che senti, quello che agisci e quello che pensi, ma anche tu puoi osservare quello che senti, pensi e fai. Questo è un salto di coscienza. Quando tu ti accorgi che puoi osservare il tuo pensiero, osservare il tuo sentire, osservare il tuo agire, stai entrando in un altro mondo. Cioè, torniamo prima, stai entrando nel mondo nel quale ti accorgi che non c'è solo il Quadrato, ma c'è il Cerchio. Noi possiamo dire che questo è il luogo nel quale tu cominci ad accorgerti, che esiste qualche cosa che possiamo chiamare sé, che la psicologia transpersonale chiama sé, ma comunque che esiste qualche cosa che va oltre quello che la persona ti porta, oltre quello che tu pensi, incominci ad accedere al mondo delle qualità, al mondo archetipico, a un mondo degli insight, al mondo di tutte quelle dimensioni, potremmo dire alla Bateson, dove gli angeli esitano. L'invito è, guarda che qui c'è un altro mondo, la fenomenologia del sé è una fenomenologia molto più ampia della fenomenologia dell'io, perché se la fenomenologia dell'io è una fenomenologia fatta di concetti, di sensazioni, di emozioni, la fenomenologia del sé è fatta di archetipi, è fatta di principi unificanti, è fatta di qualità. E allora tu puoi introdurre nel tuo contesto terapeutico, prima di tutto nel tuo contesto personale, ovviamente, e nel tuo contesto terapeutico puoi introdurre questo mondo, che è il mondo degli archetipi, è il mondo delle qualità, è il mondo dei principi unificanti. Facciamo una pratica, perché questo aspetto può essere colto, in qualche modo, in un'ottica cognitiva, ma dobbiamo cercare di entrare in questa dimensione per comprenderlo. Quindi, se vi va, chiudiamo gli occhi e andiamo in una pratica. Ci mettiamo d'occhi chiusi e incominciamo a renderci conto che siamo qui, siamo, potremmo dire, a casa, siamo adagiati nel nostro corpo, e il nostro corpo ci porta, cominciano a venire sul palcoscenico pensieri, sensazioni, magari qualche ricordo, i contenuti, possiamo dire, no? Arrivano sul palcoscenico i contenuti dell'io. Posso accorgermi che tutto questo è qualche cosa a cui io assisto. Se io assisto a ciò, io sono qualche cosa d'altro anche. Io sono questa presenza consapevole che assisto. E adesso decido di esplorare un po' questo mondo. Incomincio ad accorgermi che dentro di me c'è una sensazione di pesantezza, che il corpo fisico, la materia, naturalmente pesa. Comincio ad accorgermi che se io non trattengo, contraggo, il corpo è pesante, quadrato, il corpo è pesante. Ma posso anche accorgermi che sotto di me la terra mi sta accogliendo. Pensiamo per il cerchio di cui parlavamo prima e di quando avete detto accoglienza, unità. Al confine del quadrato c'è il cerchio. Al confine del mio corpo che pesa c'è una sensazione di accoglienza. La madre terra, prima hai parlato di mare, no? L'immagine, adesso la terra. Io lascio che il mio corpo pesa e posso sentire la madre terra che mi sostiene. Se io persisto nel contatto, cioè dico ok, resto in contatto con questo senso di pesantezza, mi accorgo che il mio corpo fisico è manifestazione dell'archetipo della terra, della materia e delle sue qualità, accoglienza, sostegno, nutrimento. Se io persisto è come se potessi sentire il linguaggio della madre archetipica che dice figlia, sei qui, sei a casa. Qualsiasi cosa tu possa pensare o dire, qualsiasi giudizio tu possa avere su di te, qualsiasi difficoltà in questo momento tu possa percepire, sei a casa e io ti accolgo. Potresti quasi percepire quell'amore incondizionato dell'archetipo terra, qualche cosa che ha a che fare con quel cerchio di cui prima. Stai qua, vai bene così. Qualse sia stata la madre che hai avuto, qualsiasi sia la madre che sei o la madre che vorresti essere, sono qui. Qui tu puoi percepire le qualità archetipiche, transpersonali, attraverso la porta nel tuo corpo fisico, attraverso la porta della materia, dell'ordine della terra. Mantieni questo contatto e accorgiti ora che dentro di te c'è anche una dimensione lieve, leggera. La puoi percepire col tuo respiro. Stai spostando la tua attenzione ora dalla dimensione del contatto con il corpo, terra, madre, al contatto col respiro. L'andare e venire dentro di te c'è un andare e venire dentro di te. Il soffio del respiro scorre incessantemente. Accorgiti se lo stai interrompendo, se lo stai lasciando andare. Accorgiti. È come se il respiro, anche come abbiamo visto per la terra, l'aria, la madre della libertà, ti dicesse figlia, seguimi, lascia tutte seguimi. Così come attraverso il corpo io accedo alla dimensione archetipica della madre terra, attraverso il soffio, il respiro, io posso accedere alla dimensione archetipica del padre cielo, mare della libertà, dell'aria comunque, del vento, della libertà e delle sue qualità. L'incessante andare e venire, la libertà appunto, la responsabilità di dire sì e di dire no, di lasciare entrare ciò che è buono e lasciare uscire ciò che non è buono. Così come un attimo fa ho conosciuto, ho incominciato a conoscere l'ordine della terra e la forza, le qualità dell'archetipo terra, ora riconosco le qualità dell'aria, della leggerezza del vento, della male e della libertà. Sto accedendo a una dimensione archetipica, transpersonale, che mi assiste. Dice figlia, vuoi lasciare andare un attaccamento, una paura, un conflitto? Seguimi. Per esempio ti mostro l'andare e venire di tutte le cose. Passa attraverso, non aggrapparti, non trattenere. Là proprio dove stai trattenendo qualcosa, magari con un giudizio, con un pensiero, con una tensione fisica. Sto bussando la porta dicendoti apri, lascia, vieni con me, tutto scorre. E così come la madre sta accogliendo ciò che lascia andare, ciò che è pesante, ti porta le qualità, così il mondo leggero dell'aria ti porta le sue qualità. Dal cerchio accedi a qualità che lavorano con te e attraverso di te. Principi ordinatori, la terra e l'aria. Ringrazio e faccio un terzo, sposto il focus adesso, sullo scorre. Che cosa scorre dentro di me? Di nuovo, ritroviamo le sensazioni fisiche, oppure gli stati dell'animo, oppure i pensieri, le emozioni, i ricordi, oppure i giudizi, oppure magari delle visioni, delle immagini, degli insight. Tutto scorre, i diversi contenuti della coscienza mi stanno attraversando e io li riconosco con la mia attenzione a ecco, terra, pesantezza, leggerezza, a ecco, pace, a ecco, giudizio. Seguo lo scorrere dei contenuti della coscienza e mi accolgo se trattengo qualche cosa che vuole pesare, se non lascio andare qualche cosa che vuole scordare, prendo atto ciò che vuole affiorare sul palcoscenico, l'accolgo. Adesso ho a disposizione l'amorevole accoglienza e le qualità della madre e ho a disposizione la libertà e il fluire dell'aria per padroneggiare i contenuti della mia coscienza. Lascio scordare, sto in contatto. Come l'acqua, tutto va e tutto viene, tutto scorre. L'ordine dell'acqua, il principio architipico ordinatore delle acque profonde fluiscono dentro di me e si manifestano sotto forma di contenuti della psiche. E adesso diamo attenzione a un quarto aspetto, a un quarto ordine. Come accennavamo all'inizio, io posso osservare, io mi accorgo che ho sensazioni, ma non sono le mie sensazioni, le sto osservando. Io mi accorgo che ho emozioni, ma non sono le mie emozioni, le sto osservando. Io mi accorgo che ho pensieri, magari giudizi, o immagini, o nulla, ma non sono, lo sto vedendo. Quindi, colei che osserva, questa dimensione di coscienza, o meglio, di consapevolezza che assiste, posso io permettermi di accorgermi che io sono in grado di osservare e di accorgermi che tutto ciò mi sta attraversando, ma che io non sono le sensazioni, le emozioni, i pensieri, i ricordi che mi attraversano. Ecco la disidentificazione, ecco il se, potremmo dire, se vogliamo usare questa mappa, il se sta osservando i contenuti dell'io e si accorge, io non sono te, io sono pura consapevolezza. Ah, ecco, io sono quel cerchio che assiste al quadrato e non c'è separazione se non nella consapevolezza. E esploro un po' questa dimensione, cosa significa permettermi, autorizzarmi ad accorgermi che io posso assistere, posso adagiarmi nel sé, a casa, e osservare gli ospiti che mi stanno attraversando, accoglierli amorevolmente come fa la madre, lasciarli liberi come l'aria, lasciargli scorrere come l'acqua e restare al cospetto senza giudizio, prendo atto. Abbiamo citato l'ordine della terra, l'ordine dell'aria, l'ordine dell'acqua e l'ordine del fuoco, principi ordinatori del sé, archetipici, che agiscono in me se io me ne accorgo. se io quando sono alle soglie del quadrato, sensazioni, emozioni, pensieri, ricordi, osservo, ecco un altro mondo che si schiude. Adesso faccio un'altra operazione di consapevolezza, apro gli occhi, ma nulla termina, perché io in fondo non ho fatto che riconoscere qualche cosa che sta succedendo, in realtà non ho fatto una pratica, ma mi sono accorta di qualche cosa e posso continuare ad accorgermene anche mentre torno qui e magari mi preparo per condividere un po' l'esperienza. Vogliamo fare un giro di condivisione? È come avere la presenza di avere tanti mondi all'interno. È interessante i processi della disimplicazione in cui posso veramente essere anche altro. Ho sentito questa parte di me che osserva, ho sentito una pacatezza. No, è questa possibilità di essere altro. Noi potremmo dire tante cose dell'approccio trans-personale, ma una di queste è che espande, non tocca nulla, è un metamodello. Cioè, qualsiasi approccio che uno conosce non è che deve cambiare nulla, semplicemente espande la sua coscienza. Si accorge di qualche cosa d'altro. Non a caso quella metafora del coraggio del cerchio. Aspetta, ok, io mi fermo, padroneggio le mie esperienze interiore e mi accorgo. Immaginatevelo in un'ottica terapeutica, in seduta. La persona ti porta qualche cosa, ma se tu hai fatto esperienza che quella che la persona ti porta, non è solo quella cosa lì, ma intanto è qualcosa che lui può osservare. E poi che si aprono tanti mondi dentro e che sono mondi di qualità. queste qualità del sé sono alleati per affrontare le eventuali difficoltà o problemi, eccetera. Quindi è come se tu ti accorgi che nella tua casa c'è un piano superiore o ti accorgi che hai un baule e non avevi visto che c'era un sottofondo nel quale c'era qualche cosa da altro. Vabbè, a me queste esperienze calmano sempre un sacco e mi piacciono sempre tanto. Forse perché riesco a trovare una dimensione che normalmente faccio fatica a contattare. Mi ha colpito il momento in cui ha detto che non c'è differenza tra Dio e il sé, ma che la differenza la fa la consapevolezza e in quel momento ho iniziato come a immaginare degli oggetti che galleggiavano dentro di me e che partivano dalla testa e andavano fino al basso. Questo mi è rimasto. Guarda un po'. Prima dici a me queste esperienze calmano sempre. Potremmo dire per darvi un esempio ok, quindi l'approccio tra un profilo e si dice ok, e perché mai non dovrei essere sempre in queste condizioni di calma? La seconda cosa che ti dice è ok, hai visto che quando fai questo succede che per esempio riconosci questo dialogo tra l'U.S.E. e questo cambio di stato di coscienza. Ti accorgi che il problema è soprattutto un'identificazione e che quando riesci a disidentificarti il problema si dissolve. È chiaro che non è sempre così facile, ma se tu vedi questo nel tuo bagaglio terapeutico ci sarà che favorirai nella persona il raggiungimento di questa condizione di disidentificazione. Se tu lo fai in questa tua posizione di calma e di conoscenza sarà molto più facile per te favorire che la persona arrivi in quella condizione nella quale tu sei stata. E anche lì se tu porti l'immagine di te di quella che può essere in questa condizione sempre perché quello che hai fatto oggi è riconoscere qualche cosa. in realtà noi mettiamo tutto nel nostro calderone quando faccio queste cose in realtà che cosa hai fatto? Hai ascoltato e hai riconosciuto che la pesantezza pesa che la leggerezza è leggera che lo scorrere scorrere che puoi osservare qualche cosa di banale che succede in ogni momento. E diciamo che mentre di solito lo senti forse più almeno io a livello più mentale più razionale in questi momenti io lo sento proprio a livello corporeo esatto esatto brava ok hai detto un'altra mappa tanto uso queste cose che dite per darvi un esempio hai parlato di mentale contraposto al corporeo ok ma in realtà hai fatto un'esperienza integrale mentale perché anche hai avuto delle immagini che poi hai chiamato immagini ma secondo me sono visioni pensa alla differenza l'io ha le immagini il sé ha le visioni la visione è qualcosa che affiora cioè l'immagine io mi visualizzo forte potente che riuscirò a fare quello che voglio questa è un'immagine dell'io la visione del sé io mi lascio andare adesso in contatto e vedo delle cose che succedono il fatto di aver avuto le visioni non l'immaginazione non l'immaginazione dice che eri in un contatto profondo con il sé perché come uno vedrà se va avanti in queste dimensioni è che la visione appartiene alla fenomenologia del sé il solo fatto di averla è terapeutica perché tu ce l'hai quando sei in quello stato se non sei in quello stato non succede perché è un'emanazione del sé a me l'esperienza ha fatto tornare in mente un po' l'esperienza del training autogeno e in questo caso era guidato e quindi mi ha permesso in qualche modo di entrare in contatto via via che la guida quindi la sua voce ci narrava delle cose di entrare in contatto proprio con dei piani di realtà differenti e quindi quando nominava il corpo la terra si sentiva proprio almeno in me la pesantezza del corpo e delle gambe sulla sedia poi è stato sorprendente perché quella pesantezza era veramente tanta il passaggio invece all'aria e ho notato il passaggio quando lei ha ci ha fatto porre l'attenzione sul respiro inizialmente in una dimensione di terra e quindi lì sentivo proprio il respiro e lo scambire di questo respiro che diventava quasi pesante poi la respirazione non è cambiata ma entrando in un piano di aria non l'ho più avvertito e quindi ho avvertito la leggerezza così passando per gli altri due piani quindi è sorprendente come una voce che guida ti permette di entrare proprio in dei piani di realtà che sono i tuoi ma è come appunto se li vedessi dall'esterno perché è la voce che te li fa vedere giustamente lo hai in qualche modo ti ha fatto venire in mente il treno dove certamente c'è la pesantezza però se tu rifletti ti accorgi che ci sono delle diversità importanti uno è quello che ti è stato suggerito è di accorgerti di qualche cosa che sta succedendo se io cerco di rilassare il mio corpo per sentirlo pesante sto facendo un altro dell'io se io mi accorgo che è evidente c'è la forza di gravità il corpo pesa sembra la stessa cosa ma è completamente diverso per questo stiamo usando la mappa io sé un conto è qualcosa che io faccio un conto è accorgermi di quindi quello che tu hai fatto grazie alla mia voce in questo caso ma è stato espandere la coscienza perché diciamo uno degli aspetti del lavoro di un personale è guarda che non abbiamo uno stato di coscienza con lo vigile il sonno e il sogno ma ci sono svariati stati di coscienza che aprono svariati mondi ci sono svariati spazi diciamo così dentro di noi che dipendono dagli stati di coscienza che abbiamo se io espando la mia coscienza e mi accorgo della pesantezza mi accorgo riconosco sempre di una cosa che è accorgendomi di questo accedo a un mondo il mondo della pesantezza detto in termini fisici in termini perché ti dicevo il mondo della pesantezza è il mondo della terra cioè schiude una dimensione archetipica non è pura pesantezza muscolare no? non a caso hai detto è successo in modo abbastanza profondo e immediato e poi quando ho portato l'attenzione sul respiro è arrivata la leggerezza perché ancora una volta non è una tecnica dell'io per cercare di fare succedere qualche cosa ma è uno spostare l'attenzione su piani di coscienza espandendo è come se tu impari a muovere il range delle stazioni radio e ascolti le diverse radio in base a dove ti sposti e così è lo stesso il mondo noi l'abbiamo appena accennato ma il mondo del basso il mondo della terra quel cerchio che raccoglie il quadrato è un infinito perché noi abbiamo accennato abbiamo detto sì guarda che se tu ascolti la pesantezza la pesantezza ti apre all'accoglienza all'amore incondizionato alla compassione al sostegno al nutrimento ma nominare questi termini e nominare dei mondi sono delle potenzialità immense se tu schiudi a te stessa prima di tutto ovviamente perché non puoi fare al paziente se non lo fai tu ma se tu schiudi attraverso la padronanza dello stato di coscienza una evidenza il fatto che la madre terra sotto di te ti sta accogliendo in modo con amore incondizionato indipendentemente dalla madre che hai avuto dalla madre personale che hai avuto e quindi dalle varie identificazioni psicodinamiche piuttosto che della tua storia personale quale lie non è che la neghi ma se tu espandi e ti accorgi che non ti eri mai accorto ma che la dea madre o più banalmente la terra sotto di te ti sta accogliendo collochi quel problema o quel vissuto all'interno di un mondo molto più ampio fatto di molte qualità e impari a lasciarle agire perché è un'altra delle cose che si potrà comprendere perché abbiamo detto che questi sono principi organizzatori le qualità della terra amore incondizionato sostegno una volta che tu lì c'è un contatto agiscono cioè il sé è il principio unificante armonizzante che agisce allora io ho sentito molto la pesantezza iniziale mi sono accorta anche di cambiare posizione durante il corso dell'esperienza e quando è arrivato il momento dell'aria mi sono molto emozionata e ho sentito proprio un alleggerimento della responsabilità collocandomi in un contesto più ampio che era quello appunto della natura della madre terra quindi questo mi ha colpito molto è stato un bel passaggio ho avuto difficoltà a tratti a lasciare andare il flusso dei pensieri perché andavo molto sul concreto in alcuni momenti era difficile fermare il flusso naturale diciamo più razionale ma però è stata un'esperienza molto molto intensa per me certamente come dicevi se tu capito che se tu ne fai esperienza è come se tu andare in bicicletta non puoi più dimenticarti se tu fai esperienza che quando espandi la coscienza e percepisci che il tuo corpo ti schiude al mondo della terra della natura e delle qualità non lo dimentichi e allora ricercherai quegli strumenti che ti consentono di comportarti come se lo sapessi e se tu per esempio uno degli aspetti importanti della psicologia transpersonale è che ha una contiguità con le varie tradizioni della filosofia perenne delle tradizioni antiche e spirituali uno dei termini chiave di queste dimensioni antiche è così in alto come in basso l'avete sentito nominare diverse volte quanto più tu sei andata giù nella terra quanto più è stato facile assumiti la responsabilità della libertà per cui se vuoi andare su vai giù questo è un altro o se vuoi andare giù vai su se vuoi andare dentro vai fuori se vuoi andare fuori vai dentro capite come la dinamica dell'io è esclusiva o vai su o vai giù la dinamica dell'io è un problema sono teso cerco di rilassarmi quindi causa effetto in un'ottica lineare il sé lavora in un'ottica circolare lavora in un'ottica paradossale se vuoi andare su vai giù ciò che va dentro sta anche andando fuori senti la pesantezza e sentirai la leggerezza lascia scorrere e osserverai e comprenderai l'osservazione infatti lascia scorrere e ti arrivano le visioni vado giù e le visioni vengono da su l'asproccio transpersonale lavorando con gli insetti schiude un altro mondo che ha delle che ha una soffronomenologia ha dei suoi codici che non sono più lineari ma appunto possiamo dire sistemici e comunque paradossali nel quale è inclusivo andare giù è andare su andare dentro è andare fuori lasciare andare è acquisire donare è ricevere è un mondo che richiede la padronanza dell'esperienza interiore quindi pratiche come queste che vogliono schiudere la dimensione interiore allora io ho avuto varie distrazioni purtroppo durante la pratica e però volevo dire proprio questa cosa che pur avendo avuto purtroppo tra le notifiche della gestione e il bambino che mi piangeva in altra stanza con la babysitter sono riuscita a ritornare sempre nella situazione mentale che avevo lasciato ed è un qualcosa che mi ha fatto caso perché io invece tendo a distrarmi proprio nella vita il fatto che sia riuscita sempre a tornare al punto che avevo lasciato mi ha colpito sì questo è importante potete intravedere tutte le funzioni diciamo così terapeutiche anche applicative terapeutiche per esempio tu hai parlato delle distrazioni perfetto nel senso che se tu facendo una pratica così affiorano le distrazioni quelli diventano materiale sul quale lavorare in senso terapeutica cioè abbiamo esplorato quattro ordini terra area acqua e fuoco che sono quattro mondi e quattro anche aspetti di personalità insieme tu puoi riconoscere per esempio quale di queste è più attivo in te e quindi attraverso quello sarà il tuo punto di forza mentre quelli dove riesci meno sono il tuo punto d'ebolezza un'altra cosa importante rispetto a quello che tu hai detto ma alcune varie di voi hanno detto giustamente non è pronta dentro diverse di voi l'immagine di sé di colei che può stare nel presente o che può fare ritrovare quando perde io di solito sono una che no hai parlato di un'identificazione dell'io quasi tutte avete parlato a me ma prendiamo il tuo esempio io di solito sono una che si distrae piuttosto che questa è un'identificazione un'identificazione con un'immagine di te giustificata dalla tua esperienza ovviamente la tua storia personale ti dice che tu tendi a distrarti ma se tu porti nel mondo questa convinzione che tu tendi a distrarti costruirai intanto il tuo mondo e vedrai il tuo mondo come colei che tende a distrarsi io sono abituata a fare centomila cose e quindi a identificarmi con quale fa centomila cose e quindi o non è in grado o non ci pensa o non può stare in una condizione che hai chiamato di rilassamento ma che in realtà è di presenza più autentica più di contatto con il sé possiamo dire però tu hai visto per questo un'esperienza così può essere trasformativa perché tu hai visto che invece lo puoi fare non solo che lo puoi fare ma che anche è a tua portata cioè nonostante che anche le situazioni non fossero propizie c'è voluto ben poco per poterlo fare immaginati se ti alleni può nascere dentro di te l'immagine di colei che perché no perché non posso andare nel mondo con questa pace ovviamente il lavoro terapeutico se tu stai lavorando in questo modo sarà di favorire intanto di farglielo riconoscere guarda che c'è dentro di te una come vuoi chiamarla una guerriera un eroe in viaggio usa un termine archetipico magari più affine alla cultura della persona e gli dice perché non portare l'eroina che è in te nel mondo la donna saggia piuttosto che perché mai identificarti con quella che deve fare centomila cose come direbbe Jung questo è lo spirito del tempo nel tempo tu sei abituato a fare centomila cose ma nel profondo tu sei una dea presente a se stessa perché non fare ecco qui il transpersonale faccio affiorare da dentro di me dal sé la sensazione emozione pensiero quindi l'idea che io posso anche essere in grado di stare in contatto con il mio sé e chi è quella lì allora incominci a costruire immaginiamoci sempre un'ottica terapeutica col tuo cliente paziente costruisci fai venire sul palcoscenico l'identificazione è stereotipica cioè di un tratto di personalità quella che va sempre che fa centomila cose ma comincia ad affiorare la donna che corre con i lupi e incomincia a tenerla in contatto a fare dialogare cominciai a nutrire sempre di più questa e questa si potrà prendere in carico di lei quindi una pratica tra virgolette così diventa una pratica trasformativa perché ti dà i materiali per lavorare in terapia partiamo dall'esperienza dei contenuti della coscienza quindi sensazioni per sentire il corpo la sensazione fisica il corpo va giù e poi abbiamo abbinato diciamo così sensazione quindi corpo con terra respiro con aria scorrere con acqua e osservazione con fuoco per cui ho accennato allo scorrere delle acque nel flusso di coscienza però poi le visioni che vengono come nel tuo caso dobbiamo renderci conto che queste visioni come ho detto prima per Giulia intanto sono il segno di una connessione col sé quindi già di per sé al di là dei contenuti delle visioni sono trasformanti dice che io sono entrata in una dimensione di connessione con il mio sé e poi il contenuto delle visioni certamente anche ha il suo significato non si va ad interpretarlo ma si va a lavorarci con di connessione di connessione di connessione Grazie a tutti.